Cari amici cari amici cari amici buonasera allora la prima cosa che devo dire è ho realizzato l'intervista ieri tra un romanista e un milanista per cui qui nella scheda c'è l'intervista andatela a vedere vedetela vedetela vedete perché è simpaticissima e vedetela vedetela vedete allora parliamo un po' della partita Roma Milan è terminata 0 a 2 un risultato che se lo guardiamo dall'ottica della classifica ci sta bene a noi interisti va più che bene va benissimo proprio perché adesso saremmo al quarto posto e in Champions cosa assurda cosa assurda ma ma vera però io avrei preferito di gran lunga un pareggio e magari anche risicato del Milan invece no il Milan è andato lì a Roma ha imposto la propria leadership non dico il proprio gioco perché da un punto di vista del gioco non è che mi entusiasmo poi chissà quanto però ha imposto la propria leadership perché questi ci hanno una fame assurda cioè con Gattuso la situazione è cambiata da così a così cioè è Gattuso io non ci avrei scommesso un centesimo su questo allenatore perché da un punto di vista tattico resto ancora perplesso ma al momento tanto di cappello perché questa squadra gioca con personalità con coraggio ma soprattutto con fame tanta tanta fame cosa che non vedo all'Inter cosa che non vedo all'Inter cioè hanno corso questi termini hanno corso per tutta la partita c'è Cutrone che è una punta è la prima punta ma macina ma macina talmente tanti chilometri mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia una cosa incredibile incredibile non sarà non sarà facile sarà un derby sarà un derby durissimo perché noi dal punto di vista psicologico siamo proprio l'opposto fragili senza personalità senza un gioco una squadra accampata in aria mi sembra questa l'Inter e onestamente onestamente magari il derby può darci può farci ritrovare delle energie nascoste ma energie più che altro psico 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 mentale come posso dire da un punto di vista mentale perché poi il problema è la testa il problema è la testa ripeto questi giocatori del Milan non mi sembrano poi dei fenomeni eppure giocano con una voglia che che gli permette di portare a casa il risultato perché va a minimizzare quelli che sono i difetti è la verità è la verità unico neo forse del Milan mi è sembrato molto biglia mi è sembrato abbastanza indecente noi ci lamentiamo spesso di porca valero perde tanti di quei palloni ma biglia ne ha perso i due o tre lì in mezzo al campo lì nella zona rossa dove i palloni non puoi perderne cioè fin quando ne perdi uno va bene ha fatto delle cose assurde per cui lo vedo come un punto a sfavore però vedremo vedremo ragazzi vedremo cioè cosa dire poi la Roma la Roma io l'avevo visto con lo Shakhtar mi era sembrata veramente poca cosa questa sera un discreto primo tempo sì un discreto primo tempo però contando che sei in casa forse ti aspetti qualcosa in più e poi ritorniamo sempre lì lo vedete lo vedete per andare in Champions non è che occorra chissà quanto non è che occorra chissà quanto cioè siamo lì noi negli ultimi tre mesi forse abbiamo fatto 4-5 punti in totale siamo al quarto posto ancora ragazzi se questi qua se la nostra squadra si desse una svegliata cioè tutto è possibile ancora tutto è possibile come è possibile che questo Milan ti rimonti perché questo Milan ripeto va rispettato non bisogna avere paura vabbè noi abbiamo avuto paura addirittura del Benevento ma non bisogna avere paura ma va rispettato perché questo è un Milan che sta dimostrando di potersela giocare con chiunque onore al Milan mi scuso nuovamente perché all'andata soprattutto nella partita di Coppa Italia l'avevo definita quasi una squadraccia come era infatti all'epoca come l'Inter attuale tu l'Inter attuale non puoi dire che è una squadrone è una squadraccia è una squadraccia senza né capa né cosa così era il Milan adesso le situazioni le parti si sono inverse cosa capiterà cosa accadrà nel derby io lo chiedo a voi lo chiedo a voi voglio un pronostico da voi vediamo un po che dite io non lo so non parto per sconfitto perché i derby sono una partita a sé però ci arriviamo male contro una squadra che invece è davvero in forma smagliante onore a questo Milan va bene andate a vedere l'intervista un abbraccio un abbraccio cari ragazzi amala forza Inter finché sia là finché sia là crediamoci un abbraccio grazie a tutti